Grande viavai di ambulanze al pronto soccorso di Pescara a causa della fortissima ondata di caldo Pescara tra le città più calde in Italia. In questo weekend centinaia di anziani che hanno richiesto le prestazioni sanitarie dei medici del pronto soccorso pescarese, così come riferito dal primario Alberto Albani, primario del pronto soccorso di Pescara numerosi i casi trattati. Molti gli anziani che sono arrivati disidratati presso la struttura dell'ospedale Santo Spirito molti casi sono stati trattati e poi fatti ritornare a casa. Per alcuni degli anziani invece è stato necessario il ricovero in ospedale. Il solito problema che si ripete ogni anno, quest'anno in particolare perché c'è stata l'ondata di caldo veramente eccezionale e quindi l'aumento degli accessi per disidratazione da parte delle pazienti anziani si è fatto notevolmente sentire sul reparto. Molti casi trattati e rimandati a casa però qualcuno ha avuto necessità del ricovero. Sì esatto, molti siamo riusciti attraverso il trattamento terapeutico in pronto soccorso a rinviarle a casa ma un certo numero hanno avuto necessità di un ricovero proprio perché le condizioni cliniche erano più gravi e quindi siamo stati costretti a ricoverarle. Dottor Albani, temperature tra i 40 e i 41 gradi anche nella giornata odierna quindi l'attendo una giornata veramente intensa. Sì, speriamo che non sia così per questo ripetiamo sempre i consigli che diamo soprattutto nelle fasce estreme i bambini e gli anziani di evitare le ore più calde della giornata cioè uscire soltanto alla mattina e il pomeriggio inoltrato evitare appunto di disposizione al sole per molto tempo abiti freschi, bianchi, mangiare poco, frutta, verdura quindi pasti piccoli e frequenti. E per affronteggiare l'emergenza caldo il cui picco è previsto per la giornata odierna il comune di Pescara ha attivato un numero telefonico a disposizione di anziani e soggetti vulnerabili per chi avesse bisogno di essere accompagnato per visite mediche o esami sanitari o per quanti avessero bisogno di farmaci o spesa a domicilio ma non può uscire di casa può chiamare i seguenti numeri il 388 98 42 381 gestito dal consorzio emergenza sanitaria integrata oppure lo 085 42 83 043 gestito direttamente dal comune di Pescara